Se hai un conto corrente bancario privato potresti aver notato che la tua banca fra gli innumerevoli servizi offre credit Lombard o agevolazioni di prestito Lombard. Un prestito Lombard può rappresentare una interessante alternativa di finanziamento per chi ne ha accesso. Infatti possono aiutare a risolvere problemi di liquidità a breve termine che alcuni devono affrontare quando cercano di raccogliere ad esempio del capitale aggiuntivo per opportunità finanziarie oppure un modo più economico per usufruire della leva finanziaria. Oggi andiamo a parlare dei crediti Lombard, dei pro, dei contro offerti da questo prodotto. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io risparmi. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto, nonché educatore finanziario AIF ed autore del libro da meno 35.000 a 0 in 18 mesi, libro del quale trovi qui sotto il link nel caso tu lo volessi acquistare dove ti vada a raccontare la mia personalissima esperienza da addebitato seriale ad un investitore e risparmiatore consapevole. Trovi il link sia per la versione cartacea che per quella Kindle qui sotto. Quotidianamente i grandi volumi di operazioni di prestito Lombard scorrono fra le banche e istituti finanziari. Ovviamente l'uso di Lombard deriva da una regione del nord Italia che tutti conosciamo relativamente al fatto che le banche italiane della regione Lombardia hanno una ricca storia che risale addirittura a Migrevo. Queste banche erano famose per i loro prestiti collaterali. I moderni prestiti Lombard seguono questo sistema molto simile. In generale un prestito Lombard è un tipo di prestito garantito da attività liquide provenienti da un portafoglio di investimenti. In pratica i tuoi investimenti vengono utilizzati come garanzia contro il prestito proteggendo il creditore dal rischio. Quindi se non riesci a rimborsare il prestito la tua banca potrebbe vendere le tue posizioni per riavere i soldi. Il meccanismo è simile a un mutuo per un immobile da affittare o commerciale però in questo caso la casa funge da garanzia per il tuo mutuo con un'unica differenza che le posizioni sul conto trading sono molto ma molto più liquide perché sono costituite da titoli come azioni e obbligazioni come garanzia. Anche altri investimenti come le pollici assicurative sulla vita possono essere utilizzate per garantire un credit Lombard. Ma la domanda sorge spontanea come diceva un tale. Perché usufruire del tale prestito Lombard? Bene ci sono diverse situazioni in cui potreste aver bisogno di accedere a una maggiore liquidità. Ad esempio potresti voler perseguire un'opportunità di investimento come investitore, i mercati finanziari si muovono rapidamente e potresti aver bisogno di accedere al capitale per tranne vantaggio. Questo è secondo me la ragione più utilizzata. Un credit Lombard può fungere da soluzione di finanziamento e conveniente e flessibile. Invece di rendere per esempio i tuoi beni personali per fare cassa o invece di andare da una finanziaria o da una banca per chiedere soldi, magari a un tasso molto più alto per acquistare un'auto puoi semplicemente usare gli investimenti come garanzia, come collaterale, per ottenere questa somma. Le banche possono regolare tale liquidità a tempo indeterminato o determinato ma molto sovente la parte essenziale è quella di un tempo indeterminato purché ovviamente le garanzie siano mantenute nel tempo. Uno dei maggiori vantaggi, in questo caso il basso costo. Infatti poiché al prestito non è richiesta una garanzia ipotetica, per esempio quella della busta paga come può essere per un prestito, che potrebbe non voler dire che non ci siano propri finanziari. Per la banca in questo caso il rischio è minimo in quanto ci sono le posizioni a copertura che vengono congelate e non sono vendibili fino a che non si copre il prestito, ma si ottiene tale liquidità a delle condizioni molto convenienti ed estremamente più basse del classico credito a consumo o delle carte di credito in revolving. Quindi per i singoli investitori questo tipo di prestito garantito da attività offre diversi vantaggi. Ciò non solo fornisce accesso alla liquidità ma offre anche una maggiore flessibilità. Il London Interbank Offered Rate, il cosiddetto LIBOR o i tassi di base standard vengono generalmente utilizzati per impostare il tasso di interesse per un prestito a Lombard. I tassi di interesse non sono solo standard per tutti i prestiti a Lombard e dipendono molto dalla banca in quanto ogni istituto ha la propria politica su questi prodotti. Ci sono banche che ad esempio richiedono almeno 100.000 euro di prestito, mentre altre partono da 10.000 euro. Alcune applicano piccoli interessi più il LIBOR, altre ancora applicano ad esempio un costo predeterminato. Vale la pena notare però che gli istituti di credito tendono ad offrire tassi più bassi rispetto ai prestiti al consumo in genere a causa del rischio inferiore per l'istituto di credito. Coloro che offrono il prestito hanno accesso a beni vendibili. Sebbene diversi fattori determinano tariffe e costi, le attività sottostanti svolgono un ruolo molto importante. Un portafoglio diversificato di azioni premium può aiutarti a ottenere un tasso migliore e una maggiore liquidità. Avere denaro investito in paesi esotici, in small cap ad esempio, potrebbe invece andare a impattare molto la quantità di denaro che viene erogato in quanto ci sono sempre alti e bassi del mercato azionario e la volatilità di mercato può far perdere valore alle tue azioni. Uno dei tanti motivi è proprio in questo caso è il fatto che l'istituto potrebbe chiederti di aggiungere nuova liquidità o nuovi asset per fornire garanzie aggiuntive se ciò accade. In altre parole, aggiungi ulteriori risorse per continuare a soddisfare i criteri stabiliti dal prestatore. In realtà non è necessario essere multimilionari per accedere ai prestiti di Lombard, ma come dicevo prima, ogni banca ha la propria politica per aprire una linea di credito. Alcuni istituti di credito possono anche fissare un importo minimo del prestito, ad esempio la banca su quale ho il portafoglio titoli io, per una richiesta di credito Lombard base con interessi più alti deve erogare almeno 10.000 euro e il donare erogato è sempre inferiore al capitale investito. Le banche calcolano l'erogabile con il loan to value ratio, il rapporto fra il valore degli asset e il prestito erogato indicato con la sigla appunto LTV, loan to value. Questo indicatore serve a fornire un cuscino per le fluttazioni dei prezzi. Per esempio un LTV del 50% significa che puoi prendere in prestito 500 solo se hai investito almeno 1.000 in asset. Tuttavia questo può variare notevolmente a seconda di diversi fattori. Gli asset più volati li richiedono un cuscino maggiore e potrebbero abbassare le LTV. Quando si stipula un prestito a Lombard bisogna sempre tenere presente dei vari rischi, ciò è particolarmente vero quando si utilizzano i fondi per acquistare ulteriori investimenti. La leva finanziaria e il finanziamento flessibile sono un'arma a doppio taglio e i prezzi delle attività possono andare in entrambe le direzioni. La premessa per ottenere il credit Lombard è quindi il possesso di un portafoglio di titoli. Tale portafoglio viene costituito un pegno rotativo senza vincolo di destinazione dove vengono pagati interessi solo sulla effettiva somma utilizzata e non sull'intera somma messa a disposizione dall'istituto bancario per cui viene aperta una linea di credito come una carta revolving praticamente e gli interessi si vanno a pagare solo sulla somma utilizzata e non su tutta la linea di credito che ci viene accordata. Vorrei precisare che bisogna sempre capire che la leva finanziaria è un rischio e non pianificare bene le proprie esposizioni debitorie può portarci a conseguenze che sono catastrofiche. Piunque andasse a pensare di richiedere un Lombard Loan dovrebbe a mio parere farsi seguire da un consulente esperto studiare a fondo la propria condizione finanziaria e capire come e dove potrebbero andare storte le cose per evitare di ritrovarsi senza soldi e senza più titoli investiti. Bene fammi sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto lasciandomi appunto un commento. Se questo video è stato di tuo gradimento ti chiedo di supportarmi veramente con poco lasciando un bel pollice in su per fammi crescere sulla piattaforma a te costa un attimo ma per me come puoi ben immaginare significa il mondo. Se sei nuovo su questo canale ti chiedo anche la cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Bene anche per oggi è tutto non mi resta solo che salutarti arrivederci a un nuovo video. A presto ciao Ciao